salve ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi io sono stata comprare una cosa bellissima e ve la voglio far vedere è arrivato anche lui allora un attimo solo che vediamo qua allora ragazzi guardate cosa ho trovato lo swiffer in 3d no vabbè lo potevo non acquistare certo ragazzi queste sono le ricariche certo che siamo messi sia io che mio figlio che non vi dico guardate che bello ragazzi è il manico 90 centimetri il piumino è sfavoloso ragazzi allora le ricariche sono 5 ragazzi costa tantissimo però voglio dire insomma per me è una novità perché io non l'avevo mai vista cioè novità oddio per me io non l'avevo mai vista quindi per me è una novità allora praticamente che cosa dice allora 3d duster kit quindi praticamente qua c'è il diciamo il manico con una ricarica infatti ma sono talmente curiosa di vederlo lo apriamo vediamo apriamolo no è troppo bello aspettate un attimo vediamo un po com'è carino allora aspettate non solo capire come si fa allora guardiamo che poi bene o male sono tutti uguali ah 3d in realtà ok ok adesso sì allora vediamo un po' se si alza si si alza raga si alzato di questo non si alza ok questo è il tutto no vabbè raga è bello secondo me è bellissimo guardate allora ecco questo vi dicevo l'altra volta vedete questo qui è doppio vedete sia da un lato che dall'altro invece quello lì che vi ho fatto vedere l'altro giorno e se è alto cioè è solo da un lato vedete che me lo ricordavo bene ma questo come si mette ho capito le ricariche come sono qua vediamo un poco ecco di qua ok vedi così posso fare sia da un lato che dall'altro ecco perché però sapete raga mi è un po non tanto mi piace la ricarica manco si mette bene ma non lo so davvero quando lasci la strada vecchia perché per quella nuova sai quel che lasci e non sai quel che trovi ragazzi questi sono detti veri 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 no non mi piace raga allora personalmente è una stupidaggine secondo me allora questo qui è orrendo è proprio orrendo ragazzi non vi dico che è meglio che non ve lo dico sembra che è stato utilizzato quindi è orrendo cioè non è neppure fatto bene e l'ho tolto dalla confezione voglio dire ma personalmente io allora vediamo se riesco adesso ma non credo proprio ma io darei proprio un votaccio perché personalmente non mi piace vediamo un poco no di qua esce pure vedete no ragazzi allora vabbè il manico è buono io metterò quei vecchi allora adesso vi dico allora questo questo kit così questo qui vedete è così che c'è il manico più la ricarica l'ho pagata 5 euro e 90 mentre queste ricariche che ne potevo fare a meno perché sono orrende sono cinque ricariche le ho pagate 8 euro e 50 costano tantissimo ma ahimè il mio voto per questo cioè per diciamola il piumino perché il palo è abbastanza resistente quindi mi piace ma io al piumino do un 4 e mezzo è orrendo ragazzi quindi fate attenzione se volete andarla a comprare personalmente a me non piace poi è tutto aperto anche qui capisco che in 3d ma ragazzi 4 e mezzo sono stata gentilissima niente ragazzi vabbè tanto il palo mi serviva perché quello niccolò me l'aveva distrutto utilizzerò sempre le mie vecchie swiffer quelle azzurre perché quelle ci valgono veramente anche se sono tagliate solo da metà ma non importa ragazzi perché questo qui mio dio chissà chissà se essendo che non l'ho aperto il pacco lo scontrino ce l'ho me lo cambiano e mi ci prendo quegli altri si farò proprio in questa maniera ragazzi questi me li vado a cambiare e tanto lo scontrino ce l'ho sì e mi prenderò quelli tradizionali no questi qua sono orrendi orrendi e niente ragazzi ho fatto questo acquisto ma vede come vedete insomma non sempre va bene c'è qua se ne no 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 orrendo va bene ragazzi niente ragazzi io vi ringrazio comunque per aver visto questo video se ti è piaciuto lasciami un like se ti fa piacere condividi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao